Continua con impegno l'iniziativa dedicata agli orti sociali promossa dalla pubblica amministrazione di Romano Dezzelino. Ampia la partecipazione della cittadinanza che ha espresso entusiasmo per un'iniziativa degna di lode. Il progetto in questione si è concretizzato con l'assegnazione di ben 47 orti sociali, di cui 45 assegnati a famiglie residenti nel comune, una alla scuola elementare di Fellette e una alla Caritas. Non solo terreni per il sostentamento della famiglia, detto sindaco Simone Bontorin, ma un'occasione importante per creare comunità.